bandiere ehi Clem tutto ok? brava eh a me per niente però però manca anche a me dai speriamo che torna sana credo di sì bambule i volantini bene dai questa porta diffidente beh no a prendersi vedersi i medicinali che dobbiamo fare cioè sta mettendo una vita che mi incuriosisce un sacco proprio oh stai lì quelli sono i bossoli vediamo un po' se il vernon a che punto è cazzo eh eh e adesso merda qui sono texano dagli occhi di ghiaccio il texano dagli occhi di ghiaccio uh cazzo fai oh che palle riusciamo a forzarlo riusciamo a forzarlo riusciamo a forzarlo eh possibile praticamente videocamera vediamo allora sonogramma 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 che cazzo è il sonogramma guarda qui eh strano io pensavo di aprirlo e trovare tutto qui invece neanche per il cacchio quella è la porta del corridoio guarda il telefono cartella medica andiamo un po' oh c'è il nastro guarda il telefono giusto vernon no orologio è fermato alle 6 6 no ti prego guarda le carte sono un mucchio di carte è sul nastro però sto a vedere se guarda la fotocopiatrice se magari trovavo la la combinazione di quell'armadietto insanguinato ok guarda il letto si hai ragione basta basta giugionneggiare infila dimmi che c'è la combinazione bernie bernie christa come guarda la guarda la guarda la Lei ha ordinato mi per mantenere ricordi di tutte le esaminazioni mediche e le consultazioni. Ho bisogno di abbracciarci, Anna. Il sonogramma conferisce che sei pregnant. Oh Dio, oh Dio, oh Dio. E sappiamo che cosa fanno i bambini in questa zona. Facevano. La determinazione è mandatoria. Non hai bisogno di dire. Dicendoli che era solo una nausea. Che mi ha dato qualcosa per lui e si è fuori. Questo è il mio problema, non il tuo. Eh, ti fucila praticamente. Non voglio la procedura, voglio il mio bambino. Non voglio la procedura, voglio il mio bambino! Non posso farlo! Non posso farlo! Anna, non hai una scelta. Ora, se ti piace, puoi prendere un po' di tempo con noi. Ma ho bisogno di tornare più tardi di domani. O non avrei una scelta ma di informare l'Oberson e me stesso. Scusate. Brutta situazione questa. Medico con la pistola, no? Oh cazzo. Per cui dobbiamo tornare fuori. Questa che è? Questa è la cassetta, vabbè. Merda. Riusciamo fuori. Era quello davanti alla porta del garage. Riazzarola. Come on. Riazzarola. 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 ok perquisisci eccolo il nastro per cui adesso abbiamo quella combinazione per l'armadietto aprilu dimmi che c'è qualcosa di importantissimo ok dai colpo di culo e ci dà sta combinazione ho fatto una decisione ho pensato che hai detto che non aveva una scuola beh, tecnicamente puoi terminare la pregnazione o di croffant ovviamente questo sarebbe una morte per te e il tuo nonborno potremmo è meglio sono state a ball l'anno pensando su questo ma stiamo ancora cercando di survive per continuare a vivere se questo è quello che ci ha bisogno se questo è quello che ci ha tornato non faccio le regole Doctore, sto facendo te, per favore, mi aiutami. Un giorno, se ci sono diversi, puoi provare di nuovo, ma per ora, oggi, dovremmo fare questo. Cazzo! E fu così che diventò uno zombie, no? Ma che c'è? Conoscevi quella donna, no? Sì, parole sagge. Siamo in negozio. Antibiotici, morfine... Prendiamo più di questo che si traciamo. Ok, credo che siamo bene. Questo è più che sufficiente per i vostri e i miei. Let's go! Vedi che ho trovato una terapia in l'occhio. Potremmo c'è qualcosa di più. Abbiamo i medici da me. E' tutto ciò che mi preoccupiamo. Siamo tornare in giro. Non prendi molto tempo. Un po' anche quest'altro. Perché ce ne erano tre. Oh, cazzo, è molly. Questo è l'ultimo che posso dare. Perché? Overson aveva qualcuno qui qui a prendere l'invento. E' davvero sbagliato. Non riesco. Abbiamo avuto un accordo. Sì, abbiamo avuto un accordo. Non nemmeno. No. 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 Non mi può fare. Scusate Molly. Ho fatto tutto. Ma ho dovuto guardare forza me. Sì. È il modo Crawford, non? Sì. Hai capito Molly eh? Combatte per una causa. Combatteva perlomeno. Via. Ora abbiamo tutto. Oh. Cadroia, è molly. che? Ma fotti di cagna. Scherzi del cazzo. Cosa è? Non è nulla. Non è nulla. Puoi restare con il accordo. Mi sono da Crawford. Cosa? Chi ti ha detto? Vi ho visto su un team di sicurezza. Perché mi mi è scato? Mi sono detto che ci sono storie sui di Crawford. Non ho detto che non ho detto come ho capito. Non ho scato a te. E anche se io lo faccio, cosa? Non ti ti ha dato nulla. Tu hai salvato la mia vita a volte, ma non mi hai detto la verità. Siamo veramente facciate questo ora? Penso che ci sia a te. Io vivi qui con mia sorella. Era 14 anni. Quando i morti iniziò andare a camminare, e Crawford si riuscì in, sembrava una buona cosa prima. Siamo segnati. Abbiamo tutto ciò che abbiamo bisogno per survivare. Poi le regole iniziò ad arrivare. Non c'è nessuno che non potrebbe giustificare il loro place, e il loro chiedere. Non c'è nessuno che necessitava speciale care. La mia sorella è diabetica, e per le regole di Crawford, questo ha fatto l'attività. Non c'è nessuno che non potrebbe essere un'attività. Ma in questo modo non potrebbe essere un'attività. Ma in questo modo non potrebbe essere un'attività. Ma in questo modo non potrebbe essere un'attività. Crawford, loro sempre parlavano di come il sistema funzionale, come qualcosa è meglio che diventare uno di loro. Ma io ho visto quello che hanno già diventato. Mi piacerebbe che non potrebbe essere così. Mi piacerebbe che sarebbe a spiegare la ragione, prima che arrivano e segnate le mie. Ma io ho sentito la sua torta, e io volevo solo il problema. Ma io ho sentito, Ma io ho sentito. E' sempre, ma io ho sentito. E'ressingata anche l'attività della mezza. E'negotiato la mia torta. Ma io ho sentito, è bellissima. C'è? E' la mia trattaata che non sufficienti andare da parte del giro. Ma io ho sentito ma come, Oh, merda. Prepara la pistola, dai. Sei scemo? Dov'è Clementine? Lo usare per aprire la pistola, ho trovato questo. E dove ho trovato questo? Ho trovato questo. L'ho preso in la porta al cuore. Allora sei stupido. Allora sei stupido. Grazie. Non ero io! Infatti io non ho sparato. Mitica! Cosa sta succedendo? Sono venuti. Oh, d***a. Sì, ma adesso come siamo fuori? Tras l'armorio. Possiamo ottenere questa d***a porta aperta. Vieni, d***a! Non riesco a parte. Qu'è questo il mio culo? No, no, esclare. D***o mi sorgo di quel che vuole. Cosa vuole? E quello è proprio? E quello è proprio il tuo culo? E l'ho mi d***o? E l'ho mi d***o? E' un'im ben d***o. E' un'im ben d***o. E' un'im ben d***o. L'im ben d***o. Non è la migliore che ci hai fatto! E' un'im ben di più! Il che tu hai fatto, dopo lo scopo! Vieni, che tu sei! Vieni, che tu sei! Non è un'im benissimo! Love me. Wait a minute. What are you saying? It was me who made the deal with the bandit at the motor and slipping those supplies. I thought maybe I could keep them off our backs. When it got discovered, that's when they attacked. That's when Duck. That's when Duck. That's when Duck. mia figlia e bambini tu hai un po' fuori e io ho detto calma il bambino buon gruppo tu hai qui non è il tempo se questo uomo pensa che sta a fare la mia poca dopo quello che ha fatto sta a fare la mia madre tu sai che Ben non vuole nulla era solo per aiutare e io dovrei dare un poca sui intenzioni? il voto non è sufficiente per tutti c'è qualcuno che ha lasciato potremmo essere questo qui io ho votato e riusci scusate Ben sai che sei che sei ma tutto che voglio fare è riusciare a Omi e e tu hai messo in rischio aspettate non ho votato? Ben è bello, è amico è amico non siamo amici amici questo è il mio voto mi accengo mi accendo mi accendo mi accendo non si o no? quindi adesso possiamo andare? benveni non 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 io io quello che